Mele che li coinvolgevano nell'omicidio della Locci, vengono incarcerati Giovanni Mele, fratello di Stefano e suo cognato Piero Mucciarini. Sono ancora in carcere quando avviene un altro delitto. Una panda celestina che era proprio qui, parcheggiata qui, e verso le 21 e 3 quarti furono uditi dei colpi da persone a distanza, ma la calibro 22 comunque è una pistola che non fa molto rumore, quindi non è stato dato più di tanto risalto a questa cosa. Qui siamo al delitto di Baccaiano di Montesperto, lì, giugno 82. Questa è la piazzolina, dove era, come vedi, una piccola piazzola. 14 settembre 1974. Esatto. Sei anni dopo il primo delitto del mostro di Firenze, qui avviene il secondo. Il contesto è sempre quello, sempre campagne fiorentine, sempre dintorno di Firenze, sempre estate, sempre una coppia di amanti in macchina. Questo rimarrà un caso irrisolto. Il call case più famoso, tipo jack cross quartatore.